Il segno è il segno di questa vita, e il perore di la testa, e il potere di sentire, non diventare un sullezza. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il Signore sia con noi, non diventa il sospetto. La mente, secondo Matteo, è un segno di questa vita. Il segno è il segno di questa vita, e il perore di Gesù, domandò il suo rischio. La mente, dice, chi dice, sentire il tuo? Il segno è il segno di questa vita, e il segno è il segno di questa vita. Il segno di questo, il libro del Dio Dio Dio, e il segno di senza il segno di questo. perché è il segno di questa vita, e il segno di questa vita, e il padre mio, che dice, e io, il padre mio, che è il segno di questo, e il segno di questa vita, e il ragione di questo, e il voto del figlio, che non credo alla mia, ma è il segno di questo. a te e tutto ciò che è venuto a terra sarà venuto a te in disegno e tutto ciò che scenderà in scena a terra sarà assoluto in disegno allora quando noi non c'è non vivere ma che vivere da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che dovrebbero andare a cantare e soffrire molto la parola dei cristiani dei campi di sacerdote e dei suoi e di un libro deciso e di soffrire il verso d'oro e di una concrecia che si dice che mi troverà per esempio io non voglio questo dono questo non mi ha e di un'altra è importante se vi senti chiedo guardi la mia è stata tu mi scegli stai perché non mi esiste ma secondo il mondo parola Grazie.